Oggi parliamo di formaggio naturale, un aspetto sul quale Slow Food ha puntato molto l'attenzione. Noi siamo partiti quasi vent'anni fa a parlare di latte crudo. L'atte crudo perché? Perché conserva le caratteristiche microbiologiche e anche chimiche di quello che ci viene dall'animale. Abbiamo parlato di come gli animali vengono allevati. I ruminanti, che siano le mucche, le pecore, le capre, le bufale, sono abituati a camminare sulla terra, ad andare a cercare l'erba che più gli piace. Questo movimento è un movimento naturale, fa stare bene. Fa produrre un latte che da un punto di vista della trasformazione è sicuramente migliore rispetto a un animale che viene invece confinato. Oggi il latte ha un contenuto di batteri sostanzialmente più basso rispetto al passato. I batteri che mancano sono soprattutto i batteri utili per fare formaggio. Questo significa che io devo, nel processo di lavorazione, andare ad aggiungere dei batteri. Le strade sono due. O mi rivolgo all'industria e quindi chiedo alla ditta che mi fornisce il caglio, che mi dia anche i batteri per fare un determinato tipo di formaggio. Fresco, stagionato, molle, duro. E questi batteri di tipo industriale, chiamiamoli così, conferiscono al formaggio le caratteristiche di odori ed aromi che mi interessano. L'industria ci mette a disposizione circa 15 ceppi diversi. In una coltura di latte innesto fatto in un piccolo caseificio, la variabilità microbiologica che noi abbiamo nel latte innesto è di 50-60 tipi di batteri diversi. Se io ho un ceppo solo, ed è la bustina di fermento industriale che si usa molto spesso, ecco, quel batterio dà una determinata sensazione odorosa e aromatica al formaggio. E quindi io ho un profilo abbastanza ristretto. È quello che chiediamo a un prodotto industriale. La cosa interessante invece nei formaggi naturali e quindi in quei formaggi che utilizzano il latte crudo, che utilizzano degli starter, dei fermenti autoprodotti, è che questi 40-50 tipi di batteri diversi sgomitano quando sono nella cagliata nel formaggio, si fanno spazio, nel loro sviluppo determinano la formazione di odori diversi, di aromi diversi. Se io uso latte crudo e uso un fermento industriale, questo comunque avrà la prevalenza sui batteri buoni, lattici, che si trovano nel latte crudo. Io, che mi faccio il mio latte innesto nella mia azienda, avrò i miei batteri. Il mio vicino, che ha il suo caseificio, i suoi animali, la sua gestione dell'azienda, la sua stalla, avrà dei batteri diversi. Allora avremo dei formaggi che sono caratteristici, propri di ciascuno. Il focus che noi abbiamo oggi è quello di prepararci in casa una cultura naturale di batteri che mi permetta di dare delle caratteristiche proprie al formaggio. Poi ciascuno dovrà, nei piccoli dettagli, arrivare a trovare la propria strada. Con i produttori di un presidio della razza grigia ci abbiamo piegato un mesetto a trovare la strada migliore. Innanzitutto devo avere un animale che sia pulito, che quando arriva in mongitura non siano puliti solamente i 3 cm dei capezzoli, ma sia tutto l'animale pulito. Un animale al pascolo è sicuramente più pulito e allora sta meglio e con maggiore difficoltà si trovano dei batteri che ci possono dare dei problemi. È un latte più sano da un punto di vista anche igienico-sanitario. Noi per farci il latte innesto cosa facciamo? Andiamo a prendere il latte di questi animali sani, latte appena munto, ancora caldo. L'abbiamo trasferito a bagnomaria all'interno di questo contenitore e con dei mezzi assolutamente semplici. Abbiamo un termometro, un gas, una padella a bagnomaria. Andiamo a riscaldare. Arriviamo fino a 60-63 gradi. Questo per quale motivo? Per andare a togliere quelli che sono i batteri che non sono utili a far formaggio. Anzi, ci possono dare delle caratteristiche negative al formaggio stesso. Arrivati a 63 gradi lo dobbiamo raffreddare ancora a bagnomaria. Prendiamo l'acqua. Trasferiamo il latte che abbiamo riscaldato in un altro contenitore in cui abbiamo l'acqua fredda che ci serve per andare a raffreddare il latte. Raffreddiamo il latte, come abbiamo detto, e lo portiamo alla temperatura cosiddetta di incubazione, cioè la temperatura alla quale i batteri lattici sono nelle condizioni migliori per potersi sviluppare. E la temperatura è una temperatura relativamente alta, attorno ai 45-48 gradi. In realtà un casaro sa benissimo che fare l'incubazione a 45 o a 48 va ad ottenere dei formaggi diversi. Questo fa parte del sapere, delle conoscenze, del sapere che ogni casaro si fa come bagaglio proprio relativamente al suo formaggio, come lo vuole ottenere, che caratteristiche gli vuole dare. Arrivati a 45-48 gradi, noi ci fermiamo e dobbiamo poi mantenerlo a questa temperatura per alcune ore. Quanto tempo? Questo dipende dal latte, questo dipende dalla stalla, questo dipende dall'allevamento. Ognuno trova la propria strada. Adesso dobbiamo mettere i batteri lattici nelle condizioni migliori per potersi sviluppare. Andremo quindi a trasferire il latte in un contenitore che sarà quello che poi farà da incubazione. Abbiamo il latte a 48 gradi. Mettiamo il latte in un contenitore termico e lo lasciamo riposare per alcune ore, dando il tempo ai batteri di potersi sviluppare e di fare in modo che il latte passi da liquido a solido, quindi diventi come uno yogurt. È importante che noi non andiamo a mescolare il latte. Una volta che ha iniziato a coagulare, io lo tolgo dal frigorifero e lo lascio a temperatura ambiente. Nel cuore del latte la temperatura è ancora a 45-48 gradi. All'esterno sono 20. Questa gradualità della temperatura favorisce lo sviluppo di batteri diversi. E questa è la biodiversità che dopo noi ci troveremo nel latte innesto e che andremo a trasferire nel formaggio. Rompiamo il coagulo e lo andiamo ad aggiungere nel latte. La dose che aggiungiamo dipende dal tipo di formaggio che vogliamo fare. Se vogliamo ottenere un formaggio con la pasta più aperta, con una maggiore quantità di buchi, la quantità sarà lo 0,2%. Se invece voglio fare un formaggio stagionato, quindi con la pasta più chiusa, la dose va all'1, anche 1,5%. La dose diventerà un sapere del casaro. Una volta che l'abbiamo fatto, noi lo possiamo conservare in frigorifero per circa tre giorni. Quindi ogni due dobbiamo andarlo a rifare, sempre dal latte crudo, sempre dalla stalla, latte caldo, il percorso che abbiamo fatto. Non c'è la ricetta, non c'è la bustina, c'è l'esperienza, la conoscenza che diventa il sapere. Grazie.